Ciao a tutti ragazzi, Beto e Tedroso sono Telefilo, oggi siamo nella prima puntata della serie principale di Minecraft Ok, non è proprio Minecraft Pocket Edition, ma chi se ne frega Allora, questa qui è la mia casa che ho costituito un intero di sopravvivenza Ma questa qui è la prima puntata e quindi non vi volevo far vedere che rompevo la legno con le mani Allora, questo è il mio letto, io direi di andare un attimo a letto a dormire Ok, siamo rinati, ho il piccone che sembra quello di Minecraft Pocket Edition tra l'altro E' bellissimo Aspetta, io direi di spostare un attimo questa Oh no, 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 no Lo smoglietto, lo stavo spricciando Comunque, andiamo nella cesta No, no, rega Boh, basta, mi sono stancato, ragazzi, ciao Dobbiamo tornare in miniera Perché devo finire il mio mob spawn Porca puttana, e sono caduto pure Allora, ci prendiamo questa spada E poi ci prendiamo con la... Questa Ok, ho bisogno anche di carne Mucca È il tuo... è il tuo... ok È il... fermati Cazzo Ti ammazzo, ti ammazzo Quanto... sì Sì, rega Oh Qui c'è un mobbullo lì che è tutto Ti... Ok Ok, questo carica sarebbe il mio mob spawn Sarebbe... è epico praticamente Qua nascono i mosti ma non l'ho ancora finito Come potete vedere qua Ci sono ancora un po' di buchi Scusatemi ragazzi, andiamo pure in città La eliminiamo subito e facciamo un cosa così Comunque, rega Queste sono le prime puntate Quindi posso capire che comunque siano un pochino noiose Le robe così E devono esserlo Perché se non lo fossero Non sarebbe Minecraft Allora, noi cerchiamo di eliminare questa terra qua Che non ci serve più Allora Prendi... ok Ehm Io ti andrei a scavare miniera Che ne dite? Io devo... voglio... Devo ancora costruire una miniera mia, rega Quindi io sto usando tutto da questo posto qua Che stanno... madonna Consigliatemi voi degli obiettivi da fare in questa nuova serie Ok, iniziamo a prenderci un po' di materiale Che possibilmente Direi di mettere qua Così, ecco, sappiamo quanto... Eh... non abbiamo molto a disposizione Un po' qua... Di scavare... Quindici, buono Direi che questo che dopo Posso abbattarci... No, c'è un ragno Rega, dovete sapere che questo Minecraft I ragni sono tutti molto aggassivi Io adesso direi di fare questi episodi da... Dieci... Innescare un qualche cazzo di... Posizioniamoci qua sopra Questo è un'ottima Grazie In questione di pochi minuti Quelli Si risolve tutto Direi così Ah, si, si, si può andare bene Ok Perfetto Credo, si, che così possa andare bene Sto eliminando Questo Ok, prendiamo questi due Va, che bella maschina Poi, muo' qua Noi mi... Miglioriamo Oh, porca puttana Guardate quante mu... Ah, perché ce la rompi Maroni del cesso Ok Ok Ok, raga Arriva Arriva Raga, non fate caso Allora, eliminiamo Questo 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 E questo Raga, perché ho fatto questo buchetto? Potrete capire Perfetto Quando inizierà la nostra caduta Dove noi poi picchieremo I nostri dorati porcelli Che dovrebbero nascere Là sopra E che poi comunque Ci metteremo dell'acqua Con il secchio Che adesso mi devo bere Addirittura Per la mia tristezza Riempirlo poi d'acqua Perché sennò i mob morirebbero Buonasera Passa Vieni tutto da qua Grazie Grazie Se volete Vado anche Ecco Io credo che questo Non mi usa Arrivo Raga, non fate caso I rumori che sentite Sono soltanto Sono soltanto persone Arrivo Ok, raga Siamo tornati Stavano Troppo Direi che questi Potrebbero essere Le ultime cose Che potremmo prenderci Ok Spacca 1 2 3 17 15 Bon Che due moroni Di ogni cazzo Di secondo C'è sta pubblicità Di merde Non me ne frega un cazzo Dite che evochi I tizi Non so che Chi è questo Scrivetemi se volete Che quando partino Le pubblicità Ve lo dica Cioè Proprio Lo elimini Perché arriva la pubblicità E dite No Noi non la vogliamo vedere E io ve la tolgo Io tra l'altro C'ho la pala Potrei fare tutto Più in fretta Tornando a casa Prendendo la pala Non c'ho quella di legno? Va bene Mi prenderò Questo qua Lasciamo Questo ferro qua E ci mettiamo In questa mano qua La vanga di ferro Ok Non vedo l'ora Di vedere Il mob spawner Completato Del tutto Perché cazzo Non ne vedo Proprio l'ora Ok Poi elimina Questo Elimina questo Dalla velocità Che ci sto mettendo Sembra di essere In creativa Ora scopriremo Se è tutto Mi sa che ce ne avanza Addirittura Ce ne ha addirittura Avanzato Va bene Io direi di chiudere Qua il mob spawner Perché da qua Ormai si è completato Prendiamoci il blocco Di vetro Ce lo mettiamo Al posto Dei gambali Rimettiamo Lì mettiamo La stone sword Glass Tucked Perfetto Poi quando arrivano I mob Li picchiamo Da qua Loro si avvicineranno Mi rendo conto Che potrebbe essere Il problema Un attimo Questo fatto Mi è venuta Un'idea Raga Sempre per bloccare Questo Ci vediamo Ok raga Siamo tornati Io direi Adesso Subito Andare A letto Lag incredibile Bravo Io direi Cazzo dobbiamo A rifinire Ok Usciamo Raga Io ho creato Anche la scala Per Porco Giuro No Sto Alla Gli Do un Cazzotto Nei Coglioni Sperando Che non sia Andata Qualcosa bestia Di satana Perché se fosse Così Potrei Leggermente Incazzarmi Ok Il nostro Mobs Pone Completate Percato che Mi sono chiuso Il titolo Come Un Pirlen Porche Mise Ma sei Handicappato Qualcun problema Ma Raga Ha un problema Handicappatudi Handicappatudine Allora Andiamo giù Sono dimenticato Raga Di prendersi E chiudere Sono un pirla Vabbè Ci prendiamo Questo Scusatemi Va bene Con questo Prima Episodio Finisce Qua Perché È già Durato Abbastanza Noi credo Che ci vediamo Nel prossimo Video L'idea Di eliminare È già Ho detto Dieci minuti È già Durato Un casino Ce l'ho Ok Non c'è Non ce l'ho Posso Merdo Fammi picchiare Da un ragno E guarda Caso Capitano No però Calmati Calmati Che te l'ho Detto Dov'è Bravo Scemo Si è andata Dov'è Dov'è Sono un po' Scemi Oh ma c'è un creeper Vieni Dov'è Dov'è il creeper Dov'è il piccolo creeper Vieni piccolo creeper Vieni da papino Però calmati Non ci calmiamo Porca miseria Perché non mi fai bere Questo cazzo di latte Fammi Fammi Vabbè No devo ricostruire un altro secchio d'acqua Devo costruire un altro secchio d'acqua Cosa cazzo ci devo fare Questo episodio finisce qua Detto cuocere Tre di ferro Se facciamo un altro secchio d'acqua Allora impriamo Per benino Anzi vi lascio qua Mettiamo a cuocere E noi ci vediamo nel prossimo video Buuuu Buuu 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 Buuu